Sono spara flashated, tanto per cambiare, aspetta, forse è meglio così, sì, forse, questa attualmente è la mia borsa, che non è, se il colore ricorda quello del sacco della spazzatura, ma giuro che non lo è, ed è questa, è uno zaino borsa, perché ultimamente mi facciano più gli zaini delle borse, perché siccome ho l'anzianitudine dentro, lo zaino lo posso dividere su due spalle, mentre la borsa su una è, e quindi mi aggrava la cervicale, madonna ragazzi, L'anzianità mi si porta via, lontanissimo, allora, andiamo subito a vedere, dentro veramente, non so da quant'è che non la apro, probabilmente tre mesi, pesa tantissimo, cioè gonfia, allora, apriamo la merda, allora, tanto troviamo questo che è bellerrimo, non so, probabilmente l'avete già visto, è fatto di, non so se è tipo cocco, qualcosa di naturale comunque, è fighissimo, E voi direte, che cosa c'ha dentro questa, questa cosina qua, avrà, non so, dei trucchi, qualcosa, una ragazza può avere I cerotti per la cervicale, cominciamo alla sagra dell'anzianità ragazzi, nel frattempo ne ho persi 18, tipo, Marianna, Angelina, Jolie Mettiamoli dentro perché non si sa mai Ah, tra l'altro, bello perché in alcuni video qualcuno mi diceva, che carino che è il tatuaggio che hai fatto a, tipo, a crocetta Cerotti per la cervicale, vabbè Quindi questo è uno Nel frattempo faccio lo scar Sono cerotti che si mettono, non hanno nessun medicinale, si mettono nelle zone della cervicale, tipo, sei mal di schiena, perché ho anche quello E in teoria te li fanno passare, sì, funzionano Basta che scrivete cross tape, scritto cross tape, tipo su Amazon, ebay, e ci escono Poi qua, giustamente per non farsi mancare niente, ho le caramelle per la gola, perché ho avuto anche mal di gola Le salite Che bello Ovviamente qua che cosa ho? Altre caramelline per la gola, queste sono quelle ancora più potenti Quelle proprio, che li mangi e ti senti il ghiaccino Il ghiaccino qua Sono da buttare via praticamente No, le caramelle non mancano mai Poi ho questi bellissimi fazzolli della marca Pez Potrei aggiungerci ollo, un pezzollo E guardate quanto belli sono Sì, sono tipo le valda che veramente ti sciolgono anche il buco del culo Sembrano dei fazzolli normali Ma no, perché sono della luffina Hanno praticamente tutti dei gattini Ditemi se ne sono bellissimi Ogni fazzoletto ha un gattino diverso Cioè, ma bellissimo Quindi rimettiamo via I pez Ollo Bellissimi Guarda, non vedo l'ora che qualcuno mi dica Hai un fazzoletto Sì, ce l'ho E poi abbiamo Ragazzi Meglio non farsi domande Ho due limette della Bic Due lamette, scusate Due lamette della Bic Sane, eh Non lo usate Però perché? Perché sono in borsa Non so, ma Ah sì Sì, sì Perché allora d'estate Questo è un discorso Che ditemi Se voi donne Ci siete Cioè Tutti i depili Praticamente con accurata Maestria Proprio Veli in l'angolino Poi esci Al sole E ti brillano Sti cazzo di peli Nei punti più assurdi Dici Ma porca puttana Cioè Sono stata mezza giornata A depilarmi E poi ti esce sto cazzo di pelo Che brilla Tipo Twilight Allora Te la porti dietro In caso di emergenza Fai i ritocchini La colla per le unghie finte Della marca Imaily Imaily ovviamente La marca famosissima Abbiamo un portafoglio Perché ne ho due Questo è quello dei documenti Quindi se volete rubarmi le cose Sappiate che non è qui Capito Ladri Non è su questa Non perdete tempo Perché sono sull'altra I soldi Vabbè No non sono per la bagiana Ne la mette Lo ammetto Lo ammetto Ho uno scontrino Sbiadito Bello Da tenere Proprio da conservare Vabbè il documento Ve lo posso risparmiare Il mio solito quadernino Per appunti Molto sobrio e delicato Il codice Della carta di credito Magari facciamo Che non ve lo faccio vedere E dei Cosa c'è qua? Aspetta Che cos'è? Ah un biglietto del cinema E questo è Che cazzo è? Ricevuta di pagamento Poste pay Vabbè Roba utile Vi dicono E dei biglietti da visita Ora andremo a vedere Perché non li apro Dal 12-18 Allora Ristorante indiano Ristorante indiano Ristorante indiano Pizzeria Della serie Viviamo con il cibo da sport Molto bene Un negozio cinese Ristorante indiano I miei biglietti da visita vecchi Molto bene Tutta roba utile Tutta roba utile mi dicono Se Che poi che cazzo me ne faccio Dei biglietti da visita Se poi ordino su Just Eat Non si sa No non mi piace il cibo indiano Poi Oh giustamente L'allure di Chanel Portiamolo in borsa Che se casomai Mi dovesse cadere la borsa Non succede neanche niente Guarda Guarda Ah Allora Perché è spazzato un po' forte Però è molto buono Molto buono Poi Cos'altro abbiamo in questa tajka Uh abbiamo un volantino Mezzo smarciolino Di Beauty Store Che è un Un negozio Che fa massaggi al viso Che ogni volta vi danno Diciamo che vogliamo andarci Ma poi non ci andiamo mai Molto bene Caramelle delle Milchita Ovviamente Video assaggi Non si spreca niente Il bio silk per capelli Non vogliamo portarcelo in giro Casomai Il capello non sembra Guarda Mettiamocelo già adesso Perché Non si spreca assolutamente Ah Mettiamoci Il disagio ragazzi Ah Ecco fatto Cioè serve tutto Ditemi quale donna Nella borsa Non ha qualsiasi cosa E quale uomo La sfotte E poi vuole le cose Tipo Ma c'è proprio tutto Nella borsa E mica un ago e filo Sì Però lo volevi Lo volevi Ok Poi Cosa abbiamo Un foglietto Dove lo metto Dove lo metto in culo Niente Non c'è niente Può sempre servire Perché se qualcuno vi dice C'è un foglietto Che devi prendere appunti Dal mio codice IBAN Per prenderti tutto Cioè serve Essenziale Essenziale Poi Cosa abbiamo Ah giustamente Libuprofene Non vogliamo averlo Cioè Un po' di bruffe Non vogliamo averlo Ma ovvio Arrivano Arrivano anche le penne Oh giustamente Vogliamo avere anche Dell'Oki Si sa mai Ragazzi Che rottame Poi 20.000 caramelle Milchita E una limone Perché Così Per cambiare un po' Attenzione Perché arriva una cosa Che non vi aspettate Minimamente Ristorante indiano Un'altra Bustina Cioè due bustine Di bubrofene Perché Un fazzollo Che probabilmente Li ha viste Di cotte Ma questa è carta Di Carta igienica Ma ragazzi Questa è carta Da culo Vabbè Può sempre servire Quando non voglio usare I fazzoletti Con i gattini Che parte la carta Da culo Altro fazzollo Che Con i segni Di rossetto Scusa ma questo Cioè mi metto A limonare I I fazzoletti Io faccio come Come cazzo si chiama Come Camilla Milanesi Che faceva Lei si ciuccia il dito Io lo faccio Con la Con la carta Saluto Camillona Nazionale Grande Camille Poi Qua niente Qua Oh Un altro Sì sono due Sono due Che bello Poi Ho un bellissimo Specchietto Ragazzi ma quanto può essere bello Questo specchietto Qua Zumba Per vedersi meglio Le cacco Le punti neri E queste cose qua E qua è normale Per vedersi Cioè In schifo Grandezza reale Ecco Poi ho questa Bellissima Guardate che carina Ma che carina Ma tutto via Che carina Cosa c'è dentro Attenzione Perché arriva il Rescue Remedy Perché questo video Non lo guarda California Rescue Remedy Ah perché Non lo sapete Sono fiori di bacche Giustamente Poi ho Una pinza Per capelli Che non uso mai Ma bisogna averla Un elastico Per capelli Degli orecchini Con le zucchette E delle cuffie Che non vanno Tipo da millenni Ma continuo a portarle Perché non si sa mai Può sempre servire Una cuffia Perché non è l'unico Paio di cuffie C'erano altre due Poi ho I frizzi pazzi Che sono scaduti No scadono nel 2021 Sì questi qua Sono all'uranio impoverito Quando scadono Portafoglio Sobrio E discreto Anche piccolo Mi dicono Oh Altri cerotti Per la cervica No ragazzi Mi sta venendo La depression Billetto da visita Poi cosa abbiamo Un biglietto Dell'autobus Finalmente Una cosa utile Una foto Di polella Ve la ricordate Polella Che è morta Il 5 novembre 2010 Guardate che carina Che era Comunque questo portafoglio È la vita Poi abbiamo Una penna Molto sobria E discreta Di Hong Kong Guardate che carina Ragazzi non va più Ah no Ma scrive No perché A me sta venendo Un dubbio Ma scrive sta penna Vediamo Usiamo la carta Da culo Ma scrive Proviamo Qua No sta a vedere Che ho la penna Oh sì Scrive Guardate che carina Cioè Girano anche le ruote Certo che scrive Ma certo Poi Ma si può girare Con la crema Vulvare Provigine Sto malissimo Allora perché So che ci tenete a sapere Della mia salute Vulvare No Praticamente Avevo comprato Dei Degli assorbenti Dai cinesui Ho detto Cazzo ma come è possibile Che sono l'ines Ma costano tipo Un decimo E Cazzo Me li prendo Li uso E il fatto sta Che tipo Dopo il terzo giorno Che li usavo Mi è venuta Una specie di irritazione Fuori La zorca E quindi Giravo con questo Cioè ma tu puoi girare Tipo anche ne so Non ce l'ha una penna Sì Oh scusi Guardi L'ho dato la crema A prurigine Per la crema Per la vulva Vabbè Bellissimo Poi Un altro paio di cuffie Queste sono molto più fiche Cosa vi devo dire Che mi Avevo la La fregna Irritata Poi Guardate che belle Queste sono veramente Fai Che hanno tutti gli sbrilluzzichini E guarda Cioè La bellanza La bellanza Belli Eh quindi vorrei lanciare Un messaggio A tutte le ragazze Non comprate gli assorbenti Dai cinesi Anche se sono Della linea Ve ne accorgete A discapito Della vostra sorca Poi ho questa Che anche solo per affetto La terrò sempre in tutte le borse Perché me l'aveva regalata Ragazza Rossetto Non so se vi ricordate Si è rotta la cerniera Ma a parte che è figa Però me la tengo lo stesso E dentro Che cosa c'è Che cosa c'è Attenzione I cerotti Per la stimolazione Dei punti Dell'agopuntura No Madonna mia Questa borsa Parla di me Una discarica Poi ho Una bustina Cosa è successo Con gli assorbenti Che li ho usati Però erano tarocchi E quindi Mi hanno creato Una specie di Di bruciore Fuori Nella vulva Fuori Nella parte esterna E ho comprato Questa crema Che gira ormai con me Che funziona Tra l'altro Abbastanza naturale Funziona Però non è proprio il top A mettersela in borsa E quindi Già che ci sono Vabbè no Faccio dopo Cosa c'è dentro A proposito Mentre parlavo Ho tirato fuori Qualcosa Ci sono i gommini Di ricambio Che carino Poi La merendina Yeah Fanno la merendina Eccola qui Bellissima È un po' schiacciata Ma credo Che sia ancora valida No potrebbe essere valida Potrebbe Però non la mangio Che sto rifando La merendina Scaduta Ok Dovrebbe essersi ripreso Allora Dicevo Che questo È un Caricatore Di Di telefoni O quello Che si vuole Si mette Il cavetto E Si Si fa Andare Così E si ricarica Diciamo A manovella In caso non ci fosse una presa O si scarica il telefono Dovete fare Qualcosa Di feco A dinamo Grazie Sì Grazie per suggerirmi Le parole Questo è tatticissimo Ci vuole Tipo una cosa Come 40 ore Per fare Per fare Un per cento Di batteria Però Fuzzica Bello Poi abbiamo Un altro profumo Questo è buonissimo Dell'Avon Centini Veramente Topperrimo È tipo Bianco e blu Lo sbattocco Che diventa azzurro Poi Ragazzi Sentite questo fondotinta Che sono Che fai Ditemi Se può andare bene Ma è croccante Perché questo fondotinta È croccante Della marca Lepo Sì Bello Mi dicono Poi Abbiamo Queste caramelle Haichu Da Taiwan Probabilmente Saranno lì Da questa estate Cosa devo aprire Ah il fondotinta Volete vederlo Sì dai Apriamolo Però mi sbriciolerà Pure Il mondo Il mondo Vediamo Vediamo Usiamo Il 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 fazzoletto Col bacio Proviamo No Non lo provo Perché veramente È mollo dentro No E c'è però Perché c'è questo liquido strano Fa un odore De merda E il colore È proprio Merda Io Proporrei Di Non so Ditemi voi Cosa mi suggerite Magari Gli haters Mi suggerite Di provarlo Oh un altro profumino Guardate che carino Versace Bright Crystal Buonissimo Questo qua è veramente Buon air Tipo questo campioncino Costa Non mi ricordo Ma tipo 20 euro Sta cacata Bellino Non l'ho pagato io ovviamente Però molto fa Ecco Quanti profumi ha Ah ho anche questo Di profumo Che è tipo Stick TH Farma Fighissimo Buonissimo Molto faico Ci piace Sì in realtà Si può raglumare La mia borsa In profumi Cerotti E caramelle Anziché Trick e tracche Bombe a mano Caramelle e noccioline Ecco possiamo fare la canzone Su Sulle Oh due caramelle eucalipto Altri Altri eucalipto Ah questo l'ho già fatta vedere Vabbè Poi Altro Il resto i remedi In chewing gum Dentro quanti ce n'è Mezzo Ma come mezzo C'ho mezzo chewing gum Dentro What Poi Questo qua è la versione notte Quando non hai sonno Giustamente Dio che disagio Ho un'altra caramella Madonna ragazzi Per favore Internatemi Oh Ho questo qua Che mi ha regalato Nese time Quello lo metto sempre in borsa Perché profuma un sacco E quindi mi profuma Tutta la borsa Sì perché giustamente Non ce n'erano profumi Profumiamola un pochino È troppo carino Guardate Sembra un po' la nana Un po' un furbi Gli voglio bene Ciao Ti voglio bene È bellissimo Poi cos'altro c'ho Oh Un'altra caramella È una salsoda Aperta Perché giustamente La pattumiera È la borsa stessa È essa stessa La borsa Poi Sento Neanche in guerra Non ho zaino così pesante Ragazzi Mi diverto troppo A leggere i commenti Dei video In cui mostro le cose Della mia borsa Mi fa troppo ridere Allora Questo rotto Però può sempre servire Ragazzi Perché Se non dovessi trovare quello Trovo questo Comunque questo occupa Meno spazio E comunque Le sue utilità le fa Perché manca solo il gambo Diciamo Sì Me la metta Poi Sento ancora del peso Da dove viene Ah Giusto C'è la borsa sul re Ma le chiavi Ragazzi Non c'ho le chiavi di casa Ah no Eccoli qua Le chiavi con il mio solito Porta chiavi marcio Che ha seguito tutti i miei Cosa c'è nella mia borsa Sa che questo È sempre più lercio E non lo lavo mai Poi Ho Oh ragazzi Ho una bottiglietta di fiori di Bach Ho Finalmente Una cosa da donna Un rossetto Ah lo cercavo da un po' Infatti Della Mulac Poi Un altro rossetto Poi Cos'ho Ah Orecchini Con Il sacchettino Del pesce Il pesciolino Guardate che pucci No in realtà non è acqua Cioè è tipo resina Però l'effetto Cazzo potrei provare a fare Ah tra l'altro A breve uscirà un video In cui provo la resina Cioè ragazzi Non potete capire il disagio Le bustine di Listering Che sono tipo bustinine Vi faccio vedere Stella Ripi Aspettate ragazzi Perché Dovrebbe riprendere Ok Dicevo questo Della Listering Su Amazon Sembrava una confezione Enorme In realtà Mi è arrivato Ed è così Una caccola del genere E dentro Ha sti foglietti Che Sono fatti Come fossi Cioè stanno di colluttorio Praticamente Si Si mettono sulla lingua Si sciogliono un attimo E Deodorano L'alitude In realtà Io li ho presi Perché mi Cioè mi ispirava A sta cosa Che si scioglievano sulla lingua Volevo provare Ma in realtà Servava un cazzo Si scioglievano sulla lingua Attenzione Non adere Però io pensavo Facessero tipo Sto effetto Colluttorio Figo In realtà Cioè Una caramella È uguale Ovvio Ragazzi Non vorrei dire Ma L'ho svuotata Oh Sono ricca Un centesimo Perché se Frequentate Il lead Le poste del genere Loro mettono sempre Prezzi con 2,99 Allora Sacchi di merda Cioè voi dovete capire Che io preferisco 3 che 2,99 Cosa me ne faccio Di sto schifo A chi lo do A chi lo do A nessuno E poi ti rimane In borsa Sto centesimo Che vaga Perere Ragazzi ma non ci sono I chupa chups Come mai Ah no Perché il chupa chups L'ho spostato Nella borsa trucco E quindi è lì A proposito Ho trovato Dai cinesi No forse Dall'indiani Non mi ricordo Dall'indiani Ho trovato Un chupa chups Al passion fruit Uh A proposito Approfitto Per ultima cosa Prima di chiudere Per farvi vedere Per farvi vedere Una cosa Fighissima Che ho preso Dal cineso È una bibita Fighissima Ve la voglio far fettere Allora C'ha questi pezzolli Dentro Stranissimi Voi direte Vabbè È una bevanda Alla fregola In realtà No Bevanda Semi di basilico Al gusto Cioè Al gusto fra Sono semi di basilico Dentro Tipo È buonarrima È fighissima Se la trovate Prendetra Ci sono anche Di altri gusti È veramente La figanza Sembra una bevanda Il mucco La consistenza È il mucco Allora Appena bevuta Sapeva di fragola L'ho lasciata In frigo Se chiudo gli occhi Se chiudo gli occhi Penso a te Perciò vorrei sapere Se pensi a me Perché sei tu La cosa più importante La più importante Che per me Adesso c'è Rossana Pensaci un po' tu Wow 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 Con tutta la tua Vitalità Rossana Sei proprio Una piccola Sta Comunque Cosa stavo dicendo Sì Se chiudo gli occhi Sa di Pesto E pesto Sa solo di pesto Oddio Sa di pizza Chi vuole bere Sto abbottigliato Dopo me la sono piantata Nel naso Bene Comunque ragazzi Mezz'ora Per svuotare la borsa Le persone normali La borsa La svuotano in Quattro Cinque minuti Cinque minuti Solo cinque Vedrai Bene Questa è tutto E ciao Tra la fine Sto smuccicando Ragazzi Userò un fazzoletto Assolutamente Con i gattini Molto bene Grazie a tutti